Buongiorno a tutti da Lebo Bistecca ai Ferri e da Aurora Lasagna. Siamo qui per fare una breve intervista alle cuoche. Buongiorno a cuoche. Possiamo fare una breve intervista? Grazie, volentieri. Grazie. Bene, iniziamo con qualche semplice domanda. Cosa state preparando di buono? Il sumo per la pasta asciutta. Ah, buonissimo. Un'altra domanda? Dì. Cosa vi viene meglio in casa? Beh, ti dico no, una ricetta sola. Il coniglio, proprio. Visto che c'erano bistecche e cosa, ti dico il coniglio. Bene, ci puoi dire gli ingredienti per prepararlo? Per preparare il coniglio? Sì. Allora, un bel soffritto di carote, cipolla e sedano. Primo se lo fa asciugare dell'acqua. Poi bisogna metterlo dentro, dopo che è ben assiuto, dentro al soffritto. Farlo andare da giodaggio col vino bianco. Poi dopo, quando è quasi cotto, metterlo dentro il forno. Sale, il pepe, tutto quello che volete mettere. Avete un ingrediente segreto che usate nei vostri piatti? No, sono segreti tutti che lo sanno tutti. Grazie per la vostra disponibilità. Ciao. Grazie. A voi la lì. Grazie a voi. Ciao. A voi la lì.